Ciao a tutti, legofani, benvenuti. Quello che vedete sullo schermo è la serie 14 delle minifigure collezionabili, quella postata ieri. Era il primo speciale di Halloween, oggi vediamo il secondo. L'anno scorso, per quanto riguarda i set stagionali, è uscito questo qui. Eccolo qua, l'ho già postato sul canale, uno dei primi video, andate poi a rivederlo. Bellissimo, accompagnato da un pipistrello, quindi Dracula, o comunque un vampiro. Io adoro tantissimo questo tipo di figure, sono davvero, con il mantello, sono davvero davvero meravigliose. Altro set di Halloween, quindi lo mettiamo insieme con tutte le minifigure collezionabili, come abbiamo visto, dedicate anche in quel caso ad Halloween. E per questo secondo speciale, eccolo qua, vediamo insieme il set stagionale di quest'anno, 2017, ancora disponibile. Il 40260, due minifigure e 145 pezzi. Ok, io direi di aprirlo e di vedere insieme il montaggio. Andiamo all'apertura e al montaggio del set. Poi vi faccio vedere anche un'altra preview, se vogliamo, del prossimo set stagionale che vedremo sul canale. Eccolo qui, dedicato al giorno del ringraziamento. Ok, benissimo. L'idea di partire subito con il montaggio. Facciamo una delle parti che adoro di più, l'apertura proprio del set. Bene, per la scelta dei colori. Mi piace tantissimo questo colore che non si vede spesso. Un giallo oscuro, se vogliamo. Ok. La prima cosa che mi piace fare è montare i personaggi, ovviamente. Eccolo qua. Abbiamo il vampiro. Infatti ha come accessorio anche un calice. Bellissimo. E poi uno scheletro. Meraviglioso anche lo scheletro. Eccolo qua. Fantastico. Eccolo qua. Le gambe. E... Le mani. Anche lui ha come accessorio il calice. Ovviamente si brinda insieme. In più però ha anche un osso. Eccolo qui. Meraviglioso. Lo mettiamo... Lo mettiamo qui. Ok. Ora montiamo la casa stregata. Questa piccola casa stregata di Halloween. Riusciamo a fare un montaggio veloce. Non so se ci riesco. Non so se ci riesco. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Sempre divertente questi set stagionali. Io ne ho diversi. Già portati sul canale. E poi c'è una sorpresa. Vi posso già anticipare. Una sorpresa per quando riguarda i set di Natale. Perché ne ho conservati alcuni anche degli anni passati. E poi li apriremo insieme proprio sul canale. Ok. Arrivato un po' più veloce. Spero che si riesca a vedere. Ecco qui c'è un pentolone. Guardate che forte che è. E ci mettiamo dentro un po' di verdure. Questo è un pezzetto stampato. Va dentro. E anche un pochino di verdure. Eccolo. Verissimo. Così lo lasciamo a cuocere. Sembra uno di quei canali di cucina. Ok. Benissimo. Questa è una zucca. Ed è presente anche un piccolo topolino. a fare la guardia. Eccolo. Questo è un altro elemento di cui è costituito il set. Eccolo qua. Mettiamoli qui. Ok. Adesso viene invece la parte più grande del set. Ovviamente. Si vede. Ok. Ok. questa è la vera e propria casa stregata ok 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 andiamo avanti ok questo va qui avanti avanti ok questo è quello montato finora dicevo 145 pezzi il costo come per tutti i set stagionali è di 10 euro ovviamente se riuscite puoi trovarlo o meno questo non ve lo so dire perché insomma sono recenti appena appena usciti la cosa sicura è che una volta fuori produzione il costo insomma il valore aumenta sempre sempre tanto quindi il caso insomma di acquistare mi piacerebbe anche recuperare alcuni set stagionali usciti qualche anno fa non è propriamente facile perché come dicevo o non si trovano oppure i prezzi sono molto molto alti però insomma quelli che cerco io in questo periodo non si riescono a trovare onestamente però cercherò di recuperarli e di portarveli poi sul canale ovviamente bellissimi pure questi mattoncini introdotti da pochi da pochi anni ecco è un po più veloce se ci riesco ci vuole davvero davvero tanto ecco un po di vegetazione che non guasta mai ecco 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 Sì. Ok, siamo arrivati a quasi metà dell'opera, questo poi si dovrebbe pure poter chiudere, come vedete. Ok, allora, andiamo avanti. Ecco qua, questo va qua e questo va qua. Ok, carino davvero. Per pure come è rifinito qui sulla parte superiore proprio della casa. Ok, adesso andiamo a mettere anche qualche pianta che ha un colore, insomma che è tutto un programma. Ecco qui. Ok, questo va qui e questo va qui. Ovviamente per poterle fissare maggiormente. Ecco qua. E poi, bellissima la zucca. Ecco, questo è un elemento comunque molto carino e unico per, insomma, abbastanza particolare. Non si trova in tutti i set. Ovviamente, guarda che bella. Proprio un tocco di classe. Ok, ma non è finita. Andiamo avanti. Qui, qui altri elementi decorativi. Ok. Oppure qui andiamo poi a sigillare la parte posteriore, così. Siamo quasi alla fine. Questo va qui. E questo va qui. Ok, gli altri. Poi avevano tutta una serie di elementi decorativi. Ovviamente. Eccolo qua. Poi, come dicevo, la scelta dei colori. Ovviamente non può mancare. In un settiallo, quindi il viola o altri elementi. Ecco qua. E alla fine viene sistemato il cancello. Ok. Ditemi voi se non è uno spettacolo. Bellissimo. Questo poi si può direzionare così. E infine andiamo a sistemare anche altri due elementi decorativi. Qui e qui. Ok. Perfetto. Ok. Qua si può anche chiudere. Guardate che forte che è. E così poi si apre. Davvero un bel set. Non è ancora finita. Ci sono alcuni elementi come il ragno di quelli nuovi. Che andiamo a posizionare qui. Ops. Ecco qui. Il ragno. Che ci sta bene. E poi mettiamo anche due. Eccolo qua. Due fiaccole. Uno. E due. Andiamo a sistemare qui. Una qui. E l'altra. All'altro. Dall'altro lato. Ok. Adesso è ancora più. Ancora più bello. E così abbiamo. Questi sono tutti pezzi che avanzano. Ovviamente come spesso accade. Sono tantissimi devo dire. Ok. E quindi abbiamo anche il nostro set. La nostra casa stregata. Ecco qui. Con il calderone. E lo scheletro. E il vampiro che festeggiano. Ecco qui. Perfetto ragazzi. Ok. Per questo video è tutto. Spero insomma che il set vi sia piaciuto. Un bellissimo set devo dire. Davvero davvero meraviglioso. Per questo secondo speciale di Halloween è tutto. Buona Halloween a tutti. Buona costruzione a tutti. Lasciate commenti e like. Fatemi sapere. Quale di questi set. E quello che vi è piaciuto di più. Se la serie collezionabili delle minifigure dedicate ad Halloween. Il vampiro. Vi lascio poi il link per andarlo a trovare. Oppure se la casa stregata di quest'anno. Il set stagionale di quest'anno. Ok. Non mi resta che salutarvi. E al prossimo video. Ciao ragazze. Ciao. Ciao.